Vogliamo creare un form per effettuare un login, quindi un form molto semplice costituito da due soli campi, uno per inserire l'username, l'altro per inserire la password e un pulsante per inviare i dati. Vedremo una prima versione base solo html, poi aggiungeremo del css con il framework bootstrap. Come editor proviamo ad utilizzare Live Wave, è un editor online completo che fornisce anche dei suggerimenti e che potete raggiungere all'url livewave.com. Se effettuate anche la registrazione e poi il login, potete salvare i vostri lavori. Il codice di base che viene fornito è questo, noi lo modifichiamo, quindi nel title mettiamo un altro title, login form e nel codice creiamo, nel codice scusate, nel body creiamo il form. Form inseriamo un'etichetta, username e poi il campo per inserire lo username, una casella di testo. Input type uguale text e possiamo aggiungere un placeholder per cominciare. Inserisci insert username. Ecco, facciamo la stessa cosa per il campo password, quindi password, input type password, insert password, come placeholder. E vedete qui che cosa verrà visualizzato nel browser. Raggiungiamo anche un button, button type uguale submit in modo tale che una volta premuto invii subito i dati al server e come etichetta inseriamo login. Vado ora a cancellare questa regola css perché non ci serve e iniziamo a ragionare sul fatto che tutti questi elementi si trovano uno di fianco all'altro si trovano uno di fianco all'altro e se voglio impilarli, cioè metterli uno invece sopra all'altro o uno sotto l'altro a seconda dei punti di vista, devo utilizzare dei div, quindi andrò a racchiudere all'interno di div i vari campi del form. quindi div e slash div e di nuovo div e slash div ecco adesso vedete che abbiamo fatto in modo che si vada a capo dopo ogni campo siccome sono loggata come cinza bibi in username e password metteva le mie credenziali, quindi le ho cancellate e come potete vedere sono presenti due placeholder un altro valore per l'attributo type di button e button in tal caso se si utilizza questo valore per l'attributo i dati non verranno automaticamente inviati al server quindi quando poi vado a cliccare sul pulsante login non accade nulla vedremo poi come gestire appunto l'invio dei dati in un secondo momento per adesso ci occupiamo solo dell'aspetto dell'interfaccia ora usando opportunamente i css potrei cambiare l'aspetto di questo form potrei andare a specificare delle proprietà per il font per la dimensione potrei aggiungere margini padding per rendere tutto più gradevole però farò la stessa cosa con minore sforzo utilizzando Framework Bootstrap la versione 4 e questo tool questo editor online mi permette di inserire direttamente Bootstrap basta andare qui in Library e scegliere Bootstrap e si può vedere che vengono aggiunti aggiunte queste righe di codice questi due script e poi l'elemento link questo elemento link include proprio la libreria Bootstrap la parte css questo script è la parte riguardante il codice javascript javascript e poi Bootstrap ha bisogno del framework della libreria javascript jquery che viene inclusa con quest'altro script qui sono sulla pagina di bootstrap 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 4 get started e si può vedere che è possibile inserire bootstrap anche utilizzando CDN cioè dei server particolari che mantengono che mantengono le librerie aggiornate quindi senza necessariamente includere tutto il codice nel progetto quindi in alternativa si può utilizzare si possono utilizzare questi questi link e questi script come si può leggere bootstrap 4 utilizza popper per ehm gestire degli elementi come le modali i tooltip i popover e solo che siccome adesso noi non li usiamo possiamo anche farne a meno di inserirne nel progetto possiamo aggiungere al nostro codice qualche informazione in più per esempio la lingua attivizzata se utilizziamo l'italiano possiamo scrivere it e poi anche la codifica che intendiamo utilizzare per i caratteri quindi possiamo aggiungere questo meta tag una meta informazione un'informazione sul documento sempre nella sezione add dove appunto specifichiamo che la codifica di carattere utilizzata è la utf8 salvo e poi posso anche allineare automaticamente cliccando su questo pulsante un'altra informazione importante da aggiungere è questa il la meta informazione sul viewport che serve per gestire in modo adeguato il 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 responsive cioè per fare in modo che il nostro sito sia responsive quindi copio responsive vuol dire che si adatta allo schermo alla dimensione dello schermo quindi andiamo ad aggiungere quest'altra meta informazione nella sezione add un'altra cosa importante quando usiamo bootstrap occorre inserire i contenuti all'interno di contenitori containers ci sono due tipi di containers i container il container di classe container è il container di classe container fluid vedete qui la differenza il primo ha dei margini sinistro e destro mentre il container fluid occupa tutto lo spazio disponibile in larghezza quindi andiamo ancora ad aggiungere racchiudere tutto il nostro codice dentro a un div di classe container o container fluid inizieremo a usare container aggiungo quindi qua un div e di classe class uguale container e poi chiudiamo il div subito dopo il form e allineiamo sul sito di V3Schools mi sono spostata sulla pagina forms bootstrap fornisce due tipi di form stacked form e inline form e quindi questo è un esempio di stacked form e questo invece è un form inline noi vogliamo realizzare questo un form impilato informazioni analoge ma decisamente più dettagliate le possiamo trovare anche sul sito ufficiale di bootstrap bootstrap qui abbiamo vedete anche la descrizione dei vari layout di form e altre informazioni sto utilizzando il sito V3Schools anche se vi suggerisco poi più avanti di andare sul sito ufficiale di bootstrap semplicemente perché è più sintetico per cominciare è decisamente più semplice guardiamo il codice su V3Schools per realizzare un form impilato con i campi impilati allora a parte questo attributo che per il momento non ci interessa l'attributo action del form è un attributo che serve per specificare il nome il pathname del file che si trova sul server che si occuperà di gestire i dati inviati quindi al momento noi non facciamo non ci occupiamo di questo aspetto invece possiamo notare che i campi all'interno del form dove noi abbiamo messo già i div sono tutti di classe form group quindi copio class form group e vado ad applicarlo ai miei div quindi vado qui riapro e ecco dove c'è questo div aggiungo l'attributo class form group e salvo inoltre l'etichetta quindi username e password nel nostro esempio dovrebbe essere racchiusa tra i tag label e slash label label ha anche un attributo for il cui valore deve essere uguale al id al valore dell'attributo id del campo di input è importante per una questione di accessibilità e quindi io lo rimuovo adesso per non aggiungere troppi elementi ma sappiate che è sempre bene inserirlo quindi andiamo a racchiudere tra label e slash label le etichette dei campi label e slash label e anche qui label slash label proseguendo l'analisi vediamo che anche i campi di input hanno una classe form control form control form control quindi copio questa classe e vado ad aggiungerla agli elementi input del mio file del mio codice class form control class form control nell'esempio è presente anche una checkbox che invece noi non abbiamo la vediamo qua questa e poi il button allora vabbè qui di type summit ma non ha importanza ha importanza invece il fatto che anche il button ha un attributo class con due valori btn per indicare che è un button e poi btn primary per specificare il tipo di button per capire meglio andiamo a vedere qui buttons dove sono mostrati tutti i tipi di pulsante di button di bootstrap basic primary eccetera eccetera e potete e potete notare che a seconda del pulsante visualizzato c'è una classe un insieme di classi diverso primary indica questo colore e così via se scodiamo un po' verso il basso possiamo anche osservare che si possono creare dei button outline cioè dei pulsanti che non hanno un colore di riempimento ma questo colore viene visualizzato come effetto hover cioè quando ci posizioniamo sopra al pulsante interessante il fatto che è possibile anche definire un pulsante che ha un effetto viene visualizzato come se fosse un link ma in realtà è un button è un pulsante si può poi lavorare sempre con le classi di bootstrap sulle dimensioni dei pulsanti vedete large default e small e basta utilizzare le classi opportune btn lg btn sm per small e non si mette niente per il pulsante di default e poi è possibile anche avere dei pulsanti a livello di blocco cioè dei pulsanti full width che occupano tutta la larghezza disponibile si possono attivare o disattivare utilizzando questo attributo di html disabled e poi vabbè abbiamo anche dei pulsanti animati per esempio da utilizzare quando si fa il caricamento di elementi quindi c'è un'ampia scelta ci sono poi anche i button groups quindi è possibile avere dei raggruppamenti di pulsanti dei pulsanti anche impilati o con dei drop down dei pulsanti drop down quindi però queste cose per il momento non ci interessano quindi una volta che abbiamo deciso qual è il pulsante che ci interessa premesso che comunque possiamo sempre andare a modificare il colore di predefinito con i css quindi scelto il colore andiamo ad utilizzare le classi che sono indicate qui per cui useremo btn primary vado qui e aggiungo la classe btn primary ecco il risultato abbiamo un form che occupa tutto il container vedete ci sono dei margini laterali e impilato ora il successivo passo è quello di inserire un po' di spazio tra il il top della pagina e il campo username per fare questa cosa abbiamo diverse scelte diverse possibilità io assegnerò a questo container un id quindi un identificatore univoco e lo chiamerò login form questo per poterlo identificare per quanto riguarda le proprietà CSS poi nel CSS qui in questo spazio aggiungo una proprietà per il login form quindi vado a scrivere cancelletto login form e la regola che voglio applicare voglio che ci sia un margine superiore del login form di adesso provo 50 pixel vediamo allora margin top 2 punti 50 pixel ecco l'effetto l'avete visto subito ora se voglio utilizzare un pulsante di larghezza di a piena larghezza full width ritorno in bootstrap vado sempre dove ci sono i button qua e vado a cercare la classe da utilizzare eccolo qua un pulsante block devo aggiungere la classe btn block vado nel mio button e aggiungo la classe copiata ecco qua dunque funziona però diciamo che non è proprio appropriato usare un id per le proprietà css si può fare però conviene utilizzare una classe allora lascio questo id login form perché potrebbe servirci in seguito e aggiungo qui una classe personalizzata che chiamerò mt50 che sta per margin top 50 pixel vado qui e invece di scrivere cancelletto login form scrivo punto mt trattino 50 e come potete notare il risultato è lo stesso un risultato analogo si può avere anche con le proprietà di spacing di bootstrap infatti bootstrap permette di utilizzare senza scrivere css personalizzato di utilizzare m per i margini p per il padding e quindi per lo spazio interno e poi queste altre lettere per indicare t top b bottom l left r right x left and right y top and bottom e poi non si mette nulla si mette solo m o p per indicare tutti i quattro lati dell'elemento ecco bisogna capire però queste dimensioni quali sono le dimensioni che si possono applicare quelle predefinite 0 per indicare che il margine o il padding è 0 pixel e poi bisogna fare un calcolo di questa variabile spacer moltiplicata per il valore indicato qui a fianco quindi spacer per punto 25 corrisponde a lo spazio 1 e poi vedete gli altri valori che non sto ad indicare qui dovrebbe esserci anche da qualche parte l'indicazione di quanto vale questa variabile spacer ma adesso vado a cercarla sul sito di V3Schools troviamo qualche informazione più dettagliata quindi 5 potrebbe fare il caso nostro perché corrisponde a 48 pixel e il font size definito all'interno di questo container effettivamente è lo stesso del browser che è di default di 16 pixel quindi al posto di mt50 potrei utilizzare mt5 di bootstrap e vedete che più o meno il risultato è lo stesso quindi usiamo mt50 così aggiungiamo un po' di css nostro a questo punto salvo e effetto il download del file qui vediamo come appare il form in chrome e utilizzo con f12 lo strumento per analizzare il il codice allora intanto cliccando su questa icona possiamo verificare che questo form si comporta in modo tale da adattarsi allo schermo qui vedete ci sono le dimensioni dello schermo si può scegliere anche un tipo di dispositivo ma più semplicemente possiamo agire su questo bordo per e trascinare questo bordo per ridurre la dimensione dello schermo simulare la riduzione della dimensione dello schermo e per cambiare anche orientamento questo è l'orientamento landscape questo è l'orientamento portrait quindi funziona perfettamente si adatta perfettamente allo schermo inoltre possiamo andare a vedere quali sono gli elementi con questo pulsante possiamo selezionare un elemento per vedere alcune proprietà come vedete il colore il font e così via cliccando sull'elemento ecco che veniamo portati proprio dove c'è il codice HTML per quell'elemento e insieme abbiamo anche lo stile analizziamo questa label vediamo che la label ha una proprietà display inline block la proprietà inline block dice praticamente che bisogna andare a capo dopo username diciamo una via di mezzo tra inline e block inline block e per impostazione predefinita il margine che viene lasciato predefinita grazie a bootstrap naturalmente il margine che viene lasciato è di punto 5 rem abbiamo già parlato le lezioni delle unità di misura rem è una unità di misura relativa alla dimensione del font del contenitore all'interno del quale si trova form in questo caso o comunque l'elemento in generale quindi è punto 5 la metà la metà della dimensione del font che visto che non abbiamo fatto alcuna modifica è quella predefinita corrispondente a 16 pixel quindi questo è un 8 pixel se poi andiamo avanti possiamo vedere ci sono delle vedete sempre di bootstrap delle proprietà di bootstrap non ci sono proprietà che abbiamo inserito noi sono tutte predefinite ok possiamo andare a vedere anche le proprietà del container quindi ci posizioniamo qui su questo elemento container e anche qui vediamo sono tutte proprietà css predefinite che sono ereditate da bootstrap e tra le altre cose dovremo vedere la nostra e vediamo se c'è eccola qua vedete dal file style.css che è il nostro file c'è la proprietà md50 corrispondente a margin top 50 pixel posso poi fare anche delle prove qui per vedere cosa succede se metto 60 pixel si può vedere non me l'ha fatto cambiare aspettate 60 pixel ecco si vede subito come cambia questi cambiamenti però non vanno assolutamente a modificare il file originale però è molto importante permettere appunto l'interfaccia se selezioniamo il pulsante il button vediamo il codice html e poi le proprietà css ci concentriamo su btn primary qui vedete che il colore definito per il testo è bianco e questo invece è il colore utilizzato per i bordi border color e per lo sfondo background color qua possiamo fare delle prove per esempio possiamo andare a vedere cliccando su questo sul colore possiamo andare a vedere cosa succede se cambiamo se lo cambiamo e scegliamone uno qualunque quindi possiamo fare delle prove direttamente qui per capire se ci piace o meno il colore un eventuale colore diverso da quello predefinito quindi potremmo scegliere per esempio questo a questo punto vediamo qual è il codice esadecimale da utilizzare per il colore e possiamo copiarlo però questo non va assolutamente a modificare il codice presente all'interno del file originale come prima lezione di bootstrap direi che è sufficiente quindi continueremo poi con ulteriori personalizzazioni di